Ciao a tutti, questa sera una raccolta di domande sulla carriera, come sempre ho una serie di domande che ho raccolto su un file, ma se ci sono anche delle domande live fatemi sapere. Ieri ero a Milano quindi ho fatto una bella cena con Mr. Rip e Alessandro Regoncini, ottime chiacchierate su progetti vari e oggi si torna al lavoro full time. Benissimo, primo punto, vi ricordo che ci sono ancora posti disponibili per la masterclass che inizia la settimana prossima, se non avete seguito il webinar potete trovare la descrizione della masterclass in questo link, ecco qua, ci sono ancora dei posti disponibili, lunedì inizia la settimana zero con l'introduzione al corso, dopodiché si parte con tutto quanto il programma per due mesi di formazione di gruppo sulla carriera a 360 gradi, si affrontano veramente tantissimi argomenti. Poi ricordatevi che se volete mettere delle domande sulla carriera c'è questo form sull'altro link, quindi così le ho tutte quante registrate e posso pian piano attaccare. Ho trovato un po' di domande veramente interessanti in questi giorni e c'erano degli spunti che secondo me valgono perché si toccano diversi aspetti. Ne ho selezionate un po' e iniziamo subito dalla prima domanda che mi ha quasi stupito perché mi viene chiesto quanto impatta un'esperienza all'estero agli occhi delle aziende italiane? E questa è una domanda interessante perché se uno pensa magari all'esperienza all'estero come esperienza del periodo universitario, allora sicuramente ottimo perché si fa vedere che si ha un'esperienza internazionale, magari a livello linguistico ci ha aiutato. Sicuramente se io parto all'inizio è qualcosa che mi contraddistingue, noi i famosi vantaggi competitivi che raccogliamo a destra e sinistra, però la parte che mi stupisce di questa domanda è che andare all'estero per capitalizzare maggiormente in Italia è quasi uno spreco a mio avviso, nel senso che tipicamente chi va all'estero, chi inizia un percorso all'estero difficilmente lo fa per poi tornare in Italia. Cioè come dire, giocare in Serie A poi mi dà vantaggio se voglio andare in Serie C, sì, ok, probabilmente sì, ma che peccato. No, però seriamente, siccome non tutti quanti devono fare scelte di andare all'estero, cosa però avere un'esperienza di qualunque tipo all'estero è qualcosa che ci contraddistingue dalle altre persone, soprattutto con una certa seniority. Quando si ha un'esperienza estera, quindi si è avuto a che fare con mercati diversi, modi di lavorare, esposizioni linguistiche, progetti internazionali, sicuramente sono competenze che possiamo capitalizzare e usare come leva per colloqui, per soprattutto aziende che magari sono completamente in Italia, però hanno aspirazioni in mercati, in business da sviluppare. Quindi un'esperienza all'estero, come tutte le esperienze positive, ha sempre un impatto positivo. Ovviamente esperienze attinenti, se io sono andato all'estero a fare il pizzaiolo per tre anni, ma ho una laurea e l'obiettivo di andare a fare business development, al di là della componente linguistica, non mi sta portando niente, è inutile che ci raccontiamo chiacchiere. Però tipicamente qualunque esperienza all'estera, come qualunque esperienza fatta bene, diventa un vantaggio che ci possiamo giocare all'interno dei colloqui delle selezioni. E soprattutto per le aziende strutturate medio-grandi, questa è una cosa importante, perché magari sarà più facile che siano aziende che hanno a che fare con l'estero in varia forma, che potrebbe essere fornitori, clienti, casa madre, headquarter da un'altra parte. Quindi a mio avviso l'esperienza all'estero, come dico sempre, è qualcosa di assolutamente da provare. Farla per poi tornare per me è uno spreco, però non tutti devono vederla nel mio modo, per cui va benissimo anche avere una logica di voglio andare all'estero e soltanto per tornare al meglio, oppure voglio farmi appunto un'esperienza di due, tre anni, però comunque il mio obiettivo è tornare a lavorare in Italia, perché ricordatevi, no, sempre i pilastri, le analisi, non è assolutamente detto che uno debba seguire delle cose specifiche, cioè la carriera specifica degli altri. Quindi se nella vostra idea di carriera, strategia di carriera, c'è il voler rimanere in Italia, un periodo all'estero di investimento, anche solo di esperienze di vita, sicuramente aiuta, perché comunque è una cosa che hanno molto meno, molto meno candidati nel curriculum da presentare, ok? Questa è una... mi piaceva l'idea, no, dell'andare all'estero preoccupandosi di tornare in Italia, però va bene, ci sta anche questo. Un'altra domanda molto interessante è come cambiare ruolo in azienda? Io parlo spesso del fatto che fare carriera non vuol dire necessariamente spostarsi da un'azienda all'altra, spostarsi su una traiettoria di crescita, no, migliorare la propria carriera può essere anche semplicemente un vivere al meglio, diversamente, con competenze diverse, migliori, la propria situazione lavorativa, ok? Però un punto fondamentale è che più grande è l'azienda e più abbiamo possibilità di fare esperienze diverse senza cambiare azienda, che ha dei lati positivi e i lati negativi. I lati positivi ovviamente è che ho la possibilità di vedere più cose, di spostarmi in maniera molto più soft, il lato negativo è che si sa che spostandosi di azienda in azienda c'è, ci sono tutti gli studi che spiegano che a parità di seniority se io ho fatto lo stesso percorso di carriera cambiando quattro aziende c'ho tot percento di stipendio in più, perché ovviamente per fare la talent acquisition si deve offrire sempre un minimo delta in qualche forma, tipicamente quella salariale, per cui grande azienda ci permette di fare questa cosa, che ha il grandissimo vantaggio di essere molto più semplice del riposizionarsi nel mercato del lavoro, a seconda dei settori, magari ci sono settori che particolarmente tirano in un certo periodo, e cosa succede? Come si deve lavorare per pianificare, per avvicinare la pallinbuca quando si ha l'obiettivo di fare un cambio di azienda in un'azienda strutturata? Per prima cosa non deve essere un segreto ben celato il fatto che abbiamo intenzione, no, più che intenzione di cambiare l'interesse e siamo disposti a, ok? Quindi partire dagli strumenti, i tool core della propria azienda, tipicamente il development plan, le mid-year o end-year review, i colloqui col capo, gli skip level, eventualmente se ci sono, cioè assicurarsi che tutti questi strumenti siano messi lì, con tutte quante le informazioni e tutte le cose registrate per bene. Quindi, se c'è questo interesse, è importante che si sappia. Io ho spiegato spesso, ho raccontato spesso, che negli ultimi anni, a un certo punto c'era stata un'opportunità in azienda di spostare delle persone all'interno del team su dei progetti specifici e io ne avevo parlato precedentemente, però in quell'occasione ho comunque detto, vabbè, ma se ci sono queste cose non mi dispiacerebbe. E il mio capo mi ha detto, meno male che mi ha avvisato, perché siccome stai performando molto bene in questa cosa, non pensavamo che tu avessi interesse a divisioni diverse, progetti diversi e tutto. Io l'avevo accennato in passato, ma non dobbiamo dare per scontato che tutti si ricordino tutto quello che abbiamo detto, che tutti, se c'è stato allora, tutti hanno in mente come priorità della vita il fatto che noi vogliamo aspirare a un ruolo diverso. Per cui, periodicamente, quando ci sono le opportunità, sempre fare presente, non me ne voglio andare, mi voglio spostare, ma se c'è la possibilità di essere esposti a certe altre cose, sono disponibile. L'altro punto fondamentale per fare un cambio ruolo in azienda è il network, cioè più conoscete persone nelle altre divisioni e queste persone sanno chi siete, cosa fate, come lavorate, qual è il vostro contributo e anche lavorativamente interagite con loro, più sarete considerati potenziali risorse per quando c'è qualcosa da fare. Ah, però, aspetta, prima di andare in giro, c'è Maurizio, Michele, che stanno lì, lavorano bene, lo conosciamo da tempo, perché non vedere se potenzialmente ha un interesse? Considerate che spesso i giochi sono fatti molto prima che le cose siano ufficializzate, cioè quando si comunica l'apertura di una divisione, saranno già 3-6 mesi che si definiscono quali sono le risorse necessarie, quali sono i papabili candidati, che cosa si potrebbe strutturare, come si potrebbe strutturare, quindi la maggior parte delle volte i giochi sono già fatti quando esce l'annuncio, per questo bisogna essere sempre sul pezzo. E l'altra cosa è, quello di cui parlo spesso, è il capire il business in cui siamo immersi, questa è una cosa fondamentale, non solo per cambiare ruolo in azienda, ma in generale per il mindset da creare per una carriera di successo, qualunque sia la tua definizione di successo, il discorso che più io capisco, il livello peggiore lavorativo è quello dove io ho i miei task, metto là, faccio le mie cose, la mia scatoletta, la mia divisione di unità, e si ferma tutto lì. Questo è proprio il modo peggiore che non aiuterà mai a crescere. Invece, essere sempre cosciente di il mio contributo, cioè questo è quello che faccio, ma questo come si articola? Che come si declina a livello di contributo nel business? In quale contratto sono immerso? In quale flusso di prodotti, informazioni, servizi partecipo? Quello che faccio qui cosa diventa dopo? Se c'è un problema, un buon risultato qui, a livello di business, qual è l'impatto? E per fare questa cosa necessariamente devo capire come lavorano gli altri team, interagire e tutto. E quindi si crea tutto quel network e tutto quell'ecosistema che gira attorno a chi non si limita a queste sono le dieci cose che devo fare, faccio i task, li faccio benissimo, ma non mi preoccupo di cosa c'è dopo. Quello che vi dico sempre, dovete proprio stendere il collo e cercare di capire, oltre le nuvole del vostro livello, che cosa succede. Vi dico sempre, non è importante la riunione a cui partecipate voi, ma è la riunione a cui partecipa il vostro capo e quella da cui sicuramente potete acquisire la maggior parte di informazioni. Per cui, per cambiare ruolo in azienda, network, conoscenze del business, tool, tutti quanti allineati, e il più possibile anche offrirsi come volontari se ci sono esposizioni di progetti, cioè esporsi a progetti e cose nuove. Soprattutto uscire dalla zona di comfort. Questo aiuterà tantissimo. E questa è una bella domanda, perché tocca vari punti. Ok? Allora, Salvatore dice, ciao Salvatore, dopo aver accettato un ruolo di referente e responsabilità in azienda sul territorio italiano, con un progetto stimolante, si tratta di formare da zero un team più gettare le basi di tutto un settore, esperienza bellissima, io l'ho vissuta ed è veramente fantastica, si vive un'azienda enterprise dove il progetto è limitante, ma il nome è conosciuto a livello mondiale, offerta RAL simile. Cosa fare? Aspetta, poi continua, provengo già da un'azienda enterprise ma non così grande e non con un grande nome come quella della proposta. Ok, allora, questo è un classica situazione di career crossroad, no? Un momento in cui si presentano varie opzioni oppure vogliamo capire quali sono le varie opzioni. Questo dipende dalla se c'è la tua strategia di carriera, nel senso che io dico sempre per come sono io, per quello che è stato il mio passato, l'aver lavorato in aziende grandi e importanti è una cosa che mi ha aiutato tantissimo. L'avere nomi importanti, Total, Orange, Toyota, American Express, Novartis, sono, è un, ti mette su una traiettoria che ti aiuta tantissimo per spostarti di azienda importante ad azienda importante. Ora, tu sei già in un'azienda con un ruolo che ti appassiona e una bella sfida a livello professionale. ti si presenta un'azienda che è un nome migliore però tu la racconti come potenzialmente progetto limitante cioè mi annoierei però il nome è importante cosa fare? Dipende da in quale fase della carriera sei e qual è il tuo obiettivo. Cioè se tu hai un obiettivo di andare all'estero, fare esperienza internazionale fare potrebbe aver senso non conosco il settore non conosco le aziende ma potrebbe aver senso investire in un sacrificio in una dimensione magari quanto sia rilevante interessante il progetto per essere poi esposto a progetti migliori dopo. Cioè estremizzo per spiegare un attimo il concetto se io sono in un'azienda piccola e mi fanno fare una cosa figa sempre piccolina e no? Cioè può essere bellissimo ma mi dà competenza in quel settore di un certo tipo va benissimo io sono quello che ha fatto l'esperienza di spostarsi dall'altro lato è minore la componente di interesse contingente ma può essere maggiore la componente di opportunità un domani a livello di spendibilità del nome a livello di magari opportunità internazionali e via dicendo quindi dipende un po' da in quale fase della carriera sei cioè in questo momento per quello che è il tuo obiettivo la tua identità professionale la tua strategia di carriera che tipo di tassello ti aiuta ad avvicinarti maggiormente al tuo punto di arrivo quindi non c'è una risposta in assoluto faccio l'esempio mi danno un progetto fighissimo una piccolissima azienda di roba meccanica e poi mi chiamano a Lamborghini per fare un progetto un po' più noioso chiaramente quel valore del brand negli anni sarà molto più grande del ok ma se quello per te è importante non è assolutamente detto che quello sia importante tu puoi dire la mia passione è fare il progetto di questo tipo me l'hanno messo davanti ok concentrati là e magari le stesse opportunità possono ripresentarsi tra x anni dopo che hai fatto questo progetto soltanto tu puoi sapere se tre anni passati nell'azienda col nome importante rispetto a tre anni passati sul progetto per te soddisfacente di queste due cose per te quale è importante però valuta tutti questi fattori e ci deve valutare il fattore economico il fattore a parte che sulla RAL ragazzi sempre attenzione non dovete vedere solo la RAL ma dovete vedere il pacchetto completo che sia a livello assicurativo a livello di fringe benefit a livello di pacchetto pensionistico cose complementari cioè assicuratevi di verificare anche tutti questi fattori perché non sono per niente banali assistenza sanitaria pensata e possibilità di trasferirsi all'estero e tutto e per cui rivedere un attimo questa cosa magari in una fase della carriera quella parte più importante rispetto al nome o viceversa se la tua se il tuo mega obiettivo è rimanere in Italia sviluppare queste cose perché sei radicato nel territorio che va benissimo allora goditi quello che stai facendo se il tuo obiettivo è fare una certa traiettoria per poi capitalizzare questo è un treno che sta passando è l'unico probabilmente no però devi sapere che stai rinunciando a una cosa per l'altra ok per cui fai sempre le tue valutazioni mettendo in chiaro e tenendo conto di tutte queste dimensioni perché tutte quante impatteranno e pensa sempre non al alla situazione contingente ma al 3-5 anni scelta A e scelta B che cosa possono portarti no però ripeto non c'è un un'unicità di soluzione che quella quella va bene se io penso a momenti della io ho avuto la fortuna che questa cosa di dover completamente ristrutturare un cioè no creare da zero una divisione per fortuna mi è capitato di farlo in un'azienda grandissima a livello internazionale per due volte e quindi in quel caso ho avuto la fortuna di avere questi due asset allineati dovendo scegliere probabilmente alla fase iniziale nella fase iniziale della carriera avrei scelto una cosa successivamente un'altra dipende da tutti quanti questi questi fattori Luca dice in ottica di carriera promozione all'interno della propria azienda è positivo o negativo mostrarsi aperto alle opportunità che il mercato esterno offre in che senso mostrarlo all'azienda cioè spiegami un attimo Luca cosa intendi per mostrarsi aperto alle opportunità che il mercato non puoi minimamente andare in giro a sventolare ehi io mi sto guardando attorno è questo mai mai cioè è proprio un errore basic meno che mai puoi andare a ricattare l'azienda ah guardate che se non mi arrivano certe cose io mi muovo questo è proprio un approccio da evitare assolutamente se stiamo parlando di questo come funziona spesso una cosa che vedo è persone che hanno l'idea di avere di essere sottovalutate tipicamente il parametro su cui si lavora è la parte salariale e quindi io penso di essere sottopagato o potrei e quindi friction di livello uno due tre scazzi disallineamenti e tutto però il principio è se effettivamente mi stanno pagando 30 ma il mio valore è 50 vuol dire posso dirlo solo dopo che ho in mano una due offerte da 50 no non può essere la mia percezione che sono alto un metro e 80 pigli il metro mettiti al muro e vedi un attimo quanto sei alto no e questo deve essere si deve sempre fare un reality check su queste cose perché a volte mi è capitato anche di fare durante le consulenze individuali percorsi con persone che avevano una percezione delle loro competenze o si sottovalutavano non si hanno resi conto che nel tempo facendo un lavoro di un certo tipo avevano sviluppato delle altre competenze che potevano mettere sul piatto in fase di negoziazione però è capitato anche persone che erano convinti di essere grandi e poi diciamo guarda che nel mondo là fuori questa cosa che tu chiami X fuori ha una valenza completamente diversa una dimensione diversa e quindi quello che tu sei convinto di conoscere perché lo fai sul tuo file Excelino fuori viene fatto su scala 10x e quindi non necessariamente ti riconosceranno questa come competenza per cui bisogna sicuramente fare questo tipo di ragionamento e qua integri la domanda con rispetto ad un collega che ostenta fedeltà fedeltà all'azienda da manager a parità di potenziale si tende a voler premiare la persona che si ha paro di perdere rispetto all'altra no 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 lato azienda allora a parte che l'ostentare fedeltà all'azienda non lo so che fai si bacia la bandiera dell'azienda il badge va in giro con la cravatta dell'azienda non lo so come si possa ostentare fedeltà all'azienda poi perché i personaggi sono e noi abbiamo a che fare con persone al lavoro se uno deve andare a vabbè problema suo non non fatevi trascinare in queste piccinerie del vogliamoci fedeltà no lasciamo stare siamo professionisti le aziende sono fatti da professionisti e ci sono delle dinamiche che conosciamo benissimo e non c'è una logica di si tende a voler premiare le persone che si ha paura di perdere rispetto all'altra l'azienda deve risolvere problemi di business e quindi deve avere persone capaci di lavorare e di portare un certo valore ok e c'è quell'equilibrio tra quello che l'azienda ti offre quello che tu puoi portare e questa cosa deve funzionare con dei meccanismi e tutto chiaro che perdere una risorsa che vale è un problema perché la ricerca di una nuova risorsa la selezione il 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 fare tutte quante le i passaggi per portare speed up la persona a livello di è una cosa costosa che richiede tempo porta discontinuità quindi non è una cosa piacevole dover sostituire una persona ma non è che se io ho paura di perdere una persona perché questa persona a parte che se ho paura di perderla perché è trattata male nel senso che sottopagata rispetto agli altri questo problema non dovrebbe esistere si deve sistemare questa cosa se invece io so che sono un'azienda non competitiva perché i miei salari sono mediamente il 20% più basse rispetto al mercato avrò questo problema non solo su questa persona ma su tantissime altre risorse ok però se ci sono due scuole di pensiero quando io vi parlo anche dei rilanci se avete un'offerta accettare o meno i rilanci ne ho parlato diverse volte è tutta quanto una cosa da vedere fondamentalmente non non dovete considerare il gioco come un gioco di forza no ma come una necessità di risolvere situazioni di business ad azienda e situazioni di aspirazioni e obiettivi lato personale per cui se io so che una certa risorsa ha potenzialmente un piede fuori inizio a trovare un'alternativa no perché nessuno me ne vado se se ne va quello il business si ferma ma è successo queste sono le leggende delle persone che si credono insostituibili non si muove foglia se che quello non vuole tutte cavolate da film però se io azienda so che c'è una risorsa che può essere un collo di bottiglia o un single point of failure e mi preparo un piano B inizio a far crescere persone perché quando ci sono situazioni del genere se l'azienda è strutturata queste situazioni vengono tracciate cioè viene tracciato che guardate che io ho una risorsa che tolta quella risorsa non abbiamo un sostituto non c'è il know-how non c'è la possibilità di queste cose vengono gestite quando si fanno il leadership team ed è business as usual non è niente di eccezionale però non è che me ne vado nelle pause caffè a dire ah ma io se non mi arrivano determinate cose me ne vado no quello non porta da nessuna parte non porta letteralmente da nessuna parte ok per cui se devi fare le ricerche per capire qual è il tuo valore sul mercato falle assolutamente legittimo avere l'orecchio a terra ha sempre senso se domani qualcosa dovesse concretizzarsi bene valuti decidi un attimo qual è la cosa importante per te se ipotizzare una controfferta oppure no scuole di pensiero e decidi un attimo però sta veramente alla professionalità non così come non si dovrebbe andare sbandierando che entro in azienda bacio il terreno come il papa che è bella quanto io voglio bene quanto amo stare qui no mi sembra assolutamente inadeguato in una direzione e nell'altra ok quadro in una big pharma continuo nel organizzare mettendomi in riporto a 35 quarantenni cui sono costretto da fare da babysitter puntare la pensione e fischiarmene avevi parlato di mettere i remi ritirare i remi in barca e nella hai 57 anni il punto è per me questo è assolutamente l'approccio sbagliato cioè no l'idea che siano cioè devo fare da babysitter a dei colleghi ma stiamo scherzando cioè al massimo da professionisti facciamo supporto mentoring travaso di competenze c'è un motivo per cui vengono messe questo anche io ho avuto capi più giovani di me e beh perché hanno fatto percorsi diversi perché hanno fatto hanno delle capacità diverse delle disponibilità diverse delle competenze diverse e sicuramente non sapevano le cose che sapevo io nel mio settore ma ne sapevano altre 200 in altri settori quindi l'idea del siccome non non mi mettono dove voglio essere devo puntare alla pensione e infischiarmene questo rischia di essere motivo per cui ti trovi persone sopra cioè partendo dal presupposto che non è che si debba fare una carriera lineare che tutti dobbiamo andare in pensione da dirigenti direttori membri del board o altro però nelle ristrutturazioni queste persone che sono state messe sopra tu stai tranquillo che non gli stai facendo da babysitter al massimo gli stai dando come giusto che sia la tua competenza per un settore specifico perché loro ne hanno in tantissimi altri e se tu hai determinate competenze e non sei lì potrebbe darsi che alle competenze manchino associate delle altre competenze tipo soft skill o altro cioè per me è un grandissimo red flag una cosa cioè siccome è allora metti un rimimbarco appunto alla pensione e tutto quanto no non è proprio un approccio che io consiglio cioè il mio consiglio è siamo professionisti come professionisti accettiamo il fatto che alcune volte tocca a noi altre volte non tocca a noi il fatto che io debba spiegare alla persona sopra di me come si usa sto mouse probabilmente quella persona sa fare 300 altre cose di cui io non ho neanche visibilità visto che non sono in quella posizione e probabilmente se questo è il modo in cui leggi la cosa traspare perché traspare perché sapete che il 70% della comunicazione non verbale patapim e patapam e se questo è l'approccio molto probabilmente è percepito è noto magari viene anche vocalizzato da chi va in giro a dire che fa da babysitter a persone che le passano sopra perché queste cose le ho anche viste succedere e nuoce gravemente la carriera cioè è proprio io come prima azione farei esattamente lo sposto cioè smetterei in tronco di vedere le persone che hanno il ruolo il compito di aiutarmi a fare il mio lavoro che so che è il compito dei manager e dei leader come persone a cui fare da babysitter solo perché non conoscono nello specifico quando ci sono i dirigenti che vengono spostati da una divisione all'altra da finance a procurement o cosa certo sicuramente hanno meno competenze specifiche verticali del motivo per cui ci sono le prime linee ma se sono lì partendo dal presupposto che non sono tutti fessi attorno a noi vuol dire che hanno determinate altre competenze caratteristiche che gli permettono di poter gestire la cosa e quindi il nostro ruolo è assicurarsi che il nostro capo possa fare bene il suo lavoro così come il suo ruolo è assicurarsi che noi possiamo fare bene il nostro lavoro dandoci gli strumenti prendendosi i proiettili quando ci sono da prendere e via dicendo quindi io come azione 1 non direi assolutamente punta alla pensione e infischiatene anzi punta a essere un asset di valore in questi anni e sostenere chi devi sostenere e farti sostenere da chi ti deve sostenere perché se no non esci perché se no stai cioè è un mindset estremamente rischioso questo ok ah questa è una bella domanda mi chiedono la dirigenza va inseguita ad ogni costo ma no ma per niente ma nessun nessuna traiettoria di carriera va inseguita ad ogni costo perché ogni passaggio ha pro e contro rimanere allo stesso livello diventare manager diventare dirigente director vice place qualunque cosa ogni cosa ha pro e contro e non siamo tutti fatti per un iter da qua a là e non vuol dire assolutamente che se vado in pensione non da manager o da dirigente ho fallito posso aver avuto una carriera di estremo successo senza aver scalato almeno in quella dimensione la gerarchia aziendale ma avendo scalato a livello di competenze di contributo e tutto diventare manager e dirigenti ha un costo pesantissimo a livello di testa a livello di energia a livello di competenze di tipo di battaglie che combatti di tipo di persone che deve affrontare di tipo di sfide di impegno di rischi e non fa per tutti ma non nel senso non tutti sono così bravi da nel senso non fa per tutti cioè è come se dicessi deve per forza piacermi il peto magari ti piace di più la carne del pesce non c'è assolutamente una logica di c'è un obiettivo assoluto da inseguire che è quello del scalare la gerarchia perché io posso essere in aziende piatti in aziende verticali in aziende internazionali in aziende cosa dove l'essere o non essere dirigente ha una valenza completamente diversa no? cioè io preferisco di gran lunga essere un junior in una multinazionale che è un dirigente nell'azienda di 20 persone io quando vedo i CEO su LinkedIn io sono CEO di un'azienda e poi vedi l'azienda 10 persone manco puoi farlo un board per essere il CEO con 10 persone no? dipende nel senso che nessuna decisione di carriera o configurazione di carriera deve essere inseguita ad ogni costo perché non deve essere un costo inteso come sacrificio ma deve essere una scelta dettata dall'aver analizzato tutte quante le cose cioè quando ci sono persone che mi dicono ah ma il problema è che io non partecipo non vengo invitato alle riunioni importanti determinate cose in certe situazioni la risposta è di grazie che non ti invitano in quelle riunioni perché in quelle riunioni magari saresti masticato e sputato dopo 20 minuti perché la cosa sbagliata la presentazione sbagliata la risposta sbagliata ti espone tantissimo e allora è molto meglio avere un percorso diverso da solo contributore rispetto all'esporsi a cose che non siamo capaci di gestire ma dove non è che uno è giusto e l'altro è sbagliato cioè non arrivo lì perché non ne sono capace no non arrivo lì perché ho fatto una scelta diversa è come la scelta tra generalista e specialista non ce n'è una giusta o sbagliata c'è la mia per cui la dirigenza ma anche l'essere manager non va inseguito ad ogni costo assolutamente no cioè voi dovete fare la vostra carriera quello che per voi ha senso non non realizzate i sogni degli altri e soprattutto non fatevi dire da altri quali sono i vostri sogni le vostre ambizioni e tutto perché ognuno può creare la propria carriera di successo perché la definizione di successo è individuale completamente ok quindi no no assolutamente no questa è una bella domanda mi si chiede quando lasciare un'azienda tossica la risposta risposta breve subito però articoliamola un attimo ok azienda tossica cosa vuol dire ne abbiamo parlato diverse volte perché mi viene spesso chiesto quali sono i red flag nelle aziende come si individuano e tutto fondamentalmente iper semplifichiamo riassumiamo si parla di azienda tossica o meglio ambiente tossico perché ripeto l'azienda non è un un oggetto l'azienda è un aggregato di persone e le persone creano una cultura non c'è un papiro con scritto qual è la cultura aziendale tra tolti gli statement di vision e via dicendo ma c'è un una logica di come si comportano le persone all'interno di questa azienda e la cultura aziendale è esattamente quello che viene incitato favorito o tollerato all'interno di un'azienda ok ci sono mi è capitato di parlare con persone che quando mi parlavano della situazione nelle loro aziende io dice guarda una frase del genere detta a voce alta in un'azienda come quella in cui ho lavorato finita la frase saresti accompagnato dalle guardie alla porta no perché non sia intollerabile in altre aziende invece può essere molto più rilassato e ne ho viste molte sfumature a riguardo però il principio qual è si parla a mio avviso di azienda tossica quando e quando si parla di un'azienda dove c'è un ambiente competitivo in maniera negativa il farsi le scarpe il dare il tormento il non avere un obiettivo cioè può esserci tossicità nel senso che è un'azienda incapace incapace di essere strutturata di avere un modo di lavorare organizzato allora quello per me è tossico perché è stressante invece proprio tossico tipicamente si intende l'azienda dove c'è invidia ci si odia ci si fa le scarpe non si collabora ci si offende si grida quelle cose quelle cose per me sono inaccettabili cioè non è tollerabile che sull'ambiente di lavoro ci siano scenate e il peggio del comportamento umano però dovete fare attenzione a una cosa dovete distinguere in maniera molto molto chiara quando è l'azienda la cultura tollerata e quando invece è il caso isolato cioè io posso essere in una situazione in cui attorno a me c'è un comportamento tossico quindi aggressività no proprio aggressioni verbali e tutto quanto non vuol dire che tutta l'azienda è così magari è il mio team il mio capo il mio gruppo di che creano problemi e allora devo capire se è una situazione contingente o meno ed eventualmente spostarmi da un'altra parte e di nuovo questo è il grandissimo vantaggio del poter spostarsi altrove cioè la grande azienda ti permette di muoverti in altri ruoli quindi se tu hai un team complicato difficile da puoi gestirlo in maniera tale che dici beh ma sai che ci sono altre possibilità parli con chi di dovere e ti proponi per spostarti quando invece ti rendi conto che un certo comportamento è diffuso perché lo riscontri nel tuo team nel team accanto nella divisione finance in procurement in engineering in cioè ovunque vai e vai vedi le persone che si fanno le scarpe si odiano e a quel punto quella è la cultura aziendale ovvero la cultura il comportamento tollerato e accettato se non addirittura favorito in alcuni contesti ecco lì te ne devi andare perché io non accetto quelli che frignano per dieci anni ah che ambiente schifoso e cose ci stai là ti appartiene ok tu sei puro e que vattene se stai là vuol dire che ti sta bene no e e questo per me è un punto fondamentale cioè non dovete accettare di rimanere in un'azienda tossica in questa definizione di tossicità soprattutto perché tutto il tempo che passate là è tempo che vi mette nella direzione sbagliata cioè prima avete degli esempi positivi di leadership di interazione di comunicazione di maniera di lavorare e tutto prima vi togliete vi scrollate di dosso determinate cose e come andare in un'azienda in cui si lavora male proprio l'officina dove riparano le cose male sbracano tutte e cose rispetto al essere in un posto dove dall'inizio ti insegnano a lavorare bene con seguendo le procedure e tutto se inizi in una direzione sbagliata poi è molto più difficile raddrizzare per cui a mio avviso quando si identificano delle caratteristiche di tossicità al di fuori anche del mio team quindi come una cosa diffusa bisogna lasciarla al più presto proprio investire diventare active job hunter e investire per uscire da una situazione del genere perché vi danneggia soltanto nel nel medio lungo periodo e anche nell'immediato ovviamente nel day by day ciao Valentino dice mi consiglieresti un metodo corso in inglese per fare un salto di qualità partendo da un livello medio tipo B2 vorrei anche qualcosa con un focus lavorativo e ne abbiamo già parlato ma lo ripeto volentieri per quanto riguarda la parte lingue straniere io ho un metodo molto molto preciso cioè dovete puntare sulla conversazione non si impara il l'inglese professionale tutto tu devi imparare l'inglese poi i termini quelli chiave professionali li acquisisci ma fondamentalmente quello che fa la differenza è il parlare per cui io quello che consiglio sempre è state lontanissimi dai corsi classici i corsi in classe che sono una follia perché pagate un botto di soldi per andare in un'aula con dieci venti persone in un'ora di lezione parlerete tre minuti se siete fortunati avrete attorno persone che ne sanno meno di voi quanto è meno di voi e seguirete un un iter che che non ve ne frega niente toccherete argomenti ci sarà la giornata in cui imparate a dire pasta pasta patate colino e sedano perché c'è la giornata della cucina e cose mentre non ve ne frega niente quello che io consiglio fortemente è lezioni individuali andate online per l'inglese Cambly beccate ci sono tantissimi youtuber credo Rick Dufer Breaking Italy che hanno un sacco di codici sconto per andare là dovete fare lezioni individuali che costano davvero poco ma anche lì cioè in quell'ora di lezione individuale tu sei un'ora a lavorare sulla tua situazione e quindi vale quanto dieci lezioni in aula in cui stai soltanto 3, 4, 5 minuti in maniera attiva per cui consiglio fortemente di fare quello cioè prendere le cose individuali e parlare cioè l'importante nell'inglese è parlare devi andare parlare raccontare cosa hai fatto durante la giornata cosa hai fatto al lavoro che sport segui sei andato in palestra i film che hai visto devi abituarti a fare l'orecchio a prendere attenzione a io non sono tanto d'accordo su quelli che dicono iniziare dai film dalle cose perché quello proprio il peggiore gradino cioè è la parte più difficile io che bene o male lavoro in inglese da 20 anni a volte se ci sono sitcom e la parte soprattutto la parte telefilm divertenti minchia mi perdo un sacco di battute perché o sono veloce o sono in slang o sono terminologie che non conosco poi io sono molto inglese british più che americano per cui ci soffro e quindi là rischiate di dare una pessima una pessima partenza per cui assolutamente quello dovendo integrare io consiglio sempre ci avevo fatto anche un video Assimil Assimil è una una collana di libri con audio all'interno dei quali ci avete tutto quanto impostato sulla conversazione se sei già a un livello B2 credo che ci sia direttamente il secondo libro da acquisire da acquistare prendi il libro con l'audio ti metti là ed è tutto quanto conversazione è basato sullo space repetition però è fondamentale farci l'orecchio e quindi la cosa migliore per accelerare è lezioni individuali due, tre, quattro a settimana per andare alla grande ok? in bocca al lupo su questo ciao sono un ragazzo molto giovane beato te primo anno di università economia e finanza ottimo l'unico mio sogno è quello di abbandonare per sempre l'Italia avresti dei consigli sul mio percorso da fare postrennale sei disposto a seguire una magistra all'estero ma vorrei cercare il massimo per poter avere anche più chance possibili nel mio campo guarda e ovviamente buon per te sta iniziando ottima anche l'idea di cerca il prima possibile ma se puoi vattene a studiare fuori se sei già fuori sede per esempio vai a studiare fuori magari non puoi c'hai l'università è costoso e tutto però se il tuo obiettivo è andare all'estero non ritardare cioè vai il prima possibile con l'Erasmus con ci sono tantissime università dove puoi prendere borse di studio puoi lavorare lavorare seriamente vai e punta subito all'estero se è quello il tuo sogno non aspettare i 3-5 anni poi vedi un attimo in dettaglio avevo fatto un video da qualche parte su come scegliere l'università dove avevo messo dei link di fammelo trovare dove avevo messo dei link su dei siti dove si selezionano le università straniere questo è il è il video in cui ne avevo parlato però in quel video parlo proprio dell'università dei siti dove può andare tutto però ti ripeto se il tuo obiettivo è partire con con partire con l'estero vai subito cioè proprio non aspettare non ha assolutamente senso ritardare per tornare un attimo a Emancu farò tesoro i consigli sono un po' titubante per il semplice fatto che sono alla fine del secondo anno per cui il passo alla triennale è breve da lì puoi cambiare vita perché purtroppo in idea in Italia c'è questa idea che la triennale sia una mezza laurea cioè se tu parti con l'idea che è una tre più la tua laurea sia una tre più due può essere una tre quattro anni di lavoro all'estero e poi due fatti successivamente se vuoi cambiare vita non hai nessunissimo motivo di rimanere a fare la stessa vita come sono saggio mamma mia ok cosa fare cosa fare se per colpa di congiunture strane le promozioni sono state bloccate o contingentate a data da destinarsi parte 1 esiste il rischio di rimanere bloccati nel proprio ruolo e vedere sfumare la propria carriera nel long term non per questione di performance se molti abbandonano la nave può avere senso rimanere qua ci sono due parti di questa domanda molto interessanti allora partiamo dalla prima parte può capitare ragazzi le aziende ma non so quanto sia grande la tua azienda però immagino medio grande visto che parliamo di promozioni bloccate e diverse risorse la cosa funziona così shit happens ok nel mondo ideale avremmo ah io vado con seniority esperienze e tutto ci sono riconoscimenti e promozioni la realtà è che è sempre un casino cioè distribuire le promozioni non è per niente facile quanto sarebbe bello poter dare tutto ciò che le persone si meritano siccome nelle aziende tipicamente la maggior parte delle persone sono performanti non puoi avere un'azienda che tutta l'azienda si muove di un livello ogni due anni ok quindi per darvi un idea dietro le quinte si fanno le valutazioni si fanno il leadership team dove ci si confronta le distribuzioni dei gaussiane nei vari livelli nelle performance e tutto e a un certo punto devi capire anche nelle valutazioni chi viene valutato in un quartile chi nell'altro anche se sono tutti quanti performanti però a quel punto zoom in basta che uno sia un po' più performante in una situazione un po' diversa e automaticamente si ridistribuiscono le cose ok questo avviene anche quando si tratta di promozioni cioè non è che c'è un infinito pacchetto di promozioni a disposizione e quindi si battaglia e a volte anche se ci sono tutte le cose per non si riesce a tenere una promozione un riconoscimento o quello che desideriamo che succede esiste anche il momento in cui vengono tutte quante bloccate così come esistono i momenti in cui quando le aziende hanno un minimo di difficoltà o si allontanano dagli obiettivi la prima cosa che fanno è tagliano cioè proprio frizzano le assunzioni e i viaggi cioè proprio una mail del grande capo da oggi tutti i processi di assunzione sono frizzati e tutti i viaggi sono bloccati se tu vuoi viaggiare una cosa che ieri facevi in automatico adesso devi avere l'autorizzazione del mega capo galattico per succede ci sta l'ho vissuto diverse volte diverse volte ho dovuto io dare i blocchi e le cose ci sta che succede a livello di come vivere questa cosa la promozione non è collegata alla carriera in maniera univoca nel senso che il passare del tempo dobbiamo collegarlo al crescere della nostra esperienza e delle nostre competenze no? io posso anche non essere con il i gradi che ogni anno aumentano ma posso benissimo aumentare la mia professionalità le mie competenze e quello che so fare quindi la mia spendibilità sul mercato anche se non ho il il titolo ma sono capace di questa cosa poi ce la si gioca nel mercato anche perché la seniority o il job title può dire cose diverse in aziende diverse no? quindi quello è scollegato dalla dalla promozione cioè tu puoi benissimo crescere in questo periodo come competenze senza avere il riconoscimento il discorso del quando tutti se ne vanno è il momento di quello può non essere sbagliato però non deve diventare un puntare sul rosso sul nero nel senso che sì è vero quando tutti se ne vanno probabilmente a un certo punto ci si rende conto che bisogna cambiare un po' di policy un po' di approccio per cui non aspettatevi che se ne vanno via il 20% delle persone il loro stipendio si è ridistribuito tra chi rimane non funziona così però magari ci si rende conto che si stanno perdendo talent retention si chiama è proprio uno degli argomenti principali dei leader e quindi magari si corre ai ripari facendo determinate azioni che non sono necessariamente il ah ecco tutto quello che avete chiesto fino adesso ecco si aprono i rubinetti perché chi sta decidendo queste cose nella stessa identica situazione vostra no? non pensate che ci sia una scala di gioia che anzi spesso le posizioni epicali sono quelle più facilmente impattate o impattate per prima il discorso del della seconda parte che tu dici se molti abbandonano la nave può aver senso rimanere e questo di nuovo dipende un attimo da cosa tu ti costruisci come strategia di carriera cioè il tuo essere in quell'azienda il tuo sviluppare la tua competenza la tua professionità la tua identità professionale non è collegato al tuo job title dico sempre non siete il vostro job title non siete il vostro titolo di studi quindi sta a te cioè tu lo sai se in quell'azienda stai crescendo magari ti possono anche riempire di titoli di studio dire che sei di titoli di job title che sei diventato il menu senior leader global head e non ti fanno fare niente ti danno dei progetti vuoti che sul mercato non valgono niente no? non è che ripeto non vieni assunto per il tuo job title vieni assunto per quello che sei fare quindi sei tu se in quell'azienda tu professionalmente stai crescendo o meno sei tu se tre anni passati lì sono tre anni all'interno dei quali stai acquisendo qualcosa che può essere più importante di un mille duemila tremila l'anno di ok? per cui in quest'ottica che è una situazione molto interessante in cui ci si può trovare non dico spesso ma quasi normalmente state capire se a me è capitato di essere in situazioni in cui per fortuna avevo letto dei segnali che l'azienda stava facendo determinate scelte per cui la divisione dove ero arrivato avevo capito che non avrebbe avuto un futuro per fortuna avevo avuto delle opportunità in parallelo e quindi ho deciso di coglierle e poi parlando con i miei ex colleghi infatti dopo pochi mesi c'era stato l'annuncio ed era successo quello che sospettavo per cui sta un attimo a te cioè non c'è né la logica del siccome non c'ho il nuovo badge devo andarmene né la logica del siccome ce ne se ne vanno tutti ha adesso la fetta di torte più grande no questo assolutamente no poi le aziende hanno le fluttuazioni ci può essere un periodo di restrizioni di assunzioni di tutte quelle forme che sicuramente conosci con la tua seniority però devi farti delle valutazioni esattamente cioè che significa per te stare in quell'azienda perché ci stai qual è il tuo obiettivo di carriera vuoi crescere vuoi spostarti vuoi andare all'estero vuoi fare più soldi e tutto devi valutarlo ok sempre su più dimensioni però è un una bella sfida lo riconosco è anche in questo caso sicuramente un passaggio fondamentale l'orecchio a terra è capire che cosa dice il mercato è sicuramente un buon momento per fatto salvo che per esempio ci sono nazioni dove quando sono le grandi aziende a fare le ristrutturazioni immaginate quando una google o un facebook o una big pharma in svizzera ti butta fuori duemila persone che succede nel mercato del lavoro cioè il casino per chi non viene da quei mondi perché ovviamente vieni divorato da queste persone a livello di competenze e tutto beh sì questo dici se molti abbandonano la nave può avere senso rimanere no di nuovo no derrick no non sono d'accordo cioè può avere senso rimanere se per te ha senso rimanere in determinate cose se sono in un'azienda dove non sto crescendo non sto facendo progetti stimolanti non sto acquisendo no non ci sono la scialuppa presuppone che sia un pezzo della parte di partenza mentre il mercato cioè devi vedere che sotto c'è il mare e non la roccia priva di lanciarti più che l'ultima scialuppa allora Pietro chiede se l'obiettivo è crescere in leadership a parità di livello meglio un posto strutturato in multinazionale e una start up con opportunità di lavorare direttamente con fondatori CEO allora su questo io ho le idee molto chiare dipende per me la start up è una scommessa perdente totale nel senso che vanno tutte bene di nuovo ci sono scelte di carriera e tutto ma quello il percorso di competenze che acquisisci un'azienda sviluppata è completamente diverso dal set di competenze e di esperienze che fai in una start up ok cioè il fondatore il CEO di una start up visto che il 90% o quelle che sono falliscono non arrivano a non ha niente a che fare col CEO di una multinazionale cioè stiamo al solito discorso sì CEO di una start up 10 persone ma che sì o sei sei un fondatore no cioè non a seconda di quello che a te interessa maggiormente nell'immediato e nel lungo periodo è una scelta o l'altra ok non non è che siccome sei vicino a uno che ha il job title CEO la c'è leadership magari sono persone che hanno ottime capacità tecniche per una start up ma leadership zero perché non devono gestire persone ma devono gestire la messa di progetti a terra e tutto cioè attenzione su questo io sono assolutamente contrario alla narrativa del ah che bello la piccola azienda vedi tutto ma vedi tutto di che vedi tutto di niente no io faccio sempre l'esempio ah sono più figo io che ho costruito tutto il castello di Barbie rispetto a te che hai fatto soltanto cinque piani dell'Empire State Building andovai cioè ma entrare in progetti di centinaia di milioni di euro internazionali e tutto anche se sono junior vengo esposto a delle cose che altrove non potrei mai vedere no rispetto per quello per come sono io per le mie scelte di carriera per come lavoro al meglio io quindi Gallup e tutte quelle cose assolutamente la l'azienda grande strutturata multinazionale ha cento vantaggi su cento dimensioni se invece uno vuole andare a fare le cose c'è lo spirito imprenditoriale e tutto va benissimo ma non si deve aspettare che sono stato leader nell'azienda di cinque persone venite mandatemi i tappeti rossi cari multinazionali no assolutamente no mentre se io voglio rimanere in quel tipologia di dimensioni di settore e cose perché mi stimolano va benissimo ma non aspettarti questa corrispondenza di siccome vedo tutto vedo tanto no puoi pure vedere tutto di una bacinella d'acqua invece che una una fetta di oceano no per cui ti ripeto io ho questo lo dico perché io ho visto quanto mi ha aiutato l'essere in grandi aziende soprattutto non fate l'errore di credere io sto in una piccola azienda per cui vedo tutto faccio tutta la finance di una piccola azienda perché così vedo insieme operation finance e cose e quindi poi vado a fare il mega manager una multinazionale ma dove va quello che hai visto là non ha niente a che fare su come si lavora lì il tipo di lavoro il tipo di stakeholders il tipo di reportistica il tipo di aspettativa è completamente diverso tant'è vero che si preferisce prendere candidati che vengono da realtà simili almeno come dimensione perché ci sono delle regole del gioco che sono comuni a tutte le grandi aziende no e quindi io so che se tu hai lavorato in un'azienda di centomila persone noi ne abbiamo centomila molto probabilmente sei abituato a gestire certi stakeholders certe dinamiche certi livelli di comunicazione certi livelli di formazione certe parti di governance anche di burocrazia interne no rispetto a quello che ti deve arrivare a 40 anni in una multinazionale non ha manco idea di come sia strutturata in macro aree ok per cui ripeto non è una risposta in assoluto ma non è una risposta in assoluta ma devi devi valutare rispetto a quella che è la tua predisposizione su questo argomento Derek dice un piano B potrebbe essere condurre entrambe le esperienze in parallelo magari dopo 3-5 anni in corporate con buone performance e ni ni ragazzi cioè se stai in una corporate ma ma dov'è che lo trovi il tempo di avere un secondo lavoro in una startup cioè puoi avere un side hustle o una cosa a parte che devi vedere se puoi autorizzazioni conflitto di interessi tutto quanto deve essere ufficializzato devi stare molto 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 attento alle regole se si può fare o meno però il lavoro ti assorbe pienamente per cui sì puoi andare fare investimenti e cose ma cioè se io sono una persona che lavora in un'azienda e in una grande azienda e c'è una mia idea di business che sviluppa all'ater è un discorso ma se io sono una startup non so quanto possa essere attraente una persona che dieci ore al giorno ha un altro lavoro cioè devi essere proprio superman per 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 essere per me interessanti le tue una due ore che mi puoi dedicare a giorni alterni ok non lo vedo molto molto realistica come cose da portare in parallelo ok invece il discorso del passare da una piccola bacinella a qualcosa di più grande è fattibile la solita terribile risposta dipende parti in salita dipende dal qual è il tuo settore che competenze hai sviluppato magari puoi aver sviluppato una piccola bacinella una piccola realtà delle competenze estremamente specifiche che ti possono aiutare ad entrare in un tassello estremamente specifico in questo caso si deve ingegnerizzare molto bene il passaggio per questo bisogna lavorare a livello di strategia di carriera e devi capire di tutto quello che hai fatto della tua identità professionale delle tue esperienze e in base ai tuoi pilastri cosa puoi mettere veramente sul piatto devi lavorare su una su una su una comunicazione uno storytelling estremamente mirato e funzionale e devi essere cosciente del fatto che parti completamente in salita no? e allora lì devi magari tenere in mente di nuovo se il tuo obiettivo diventa entrare nella multinazionale probabilmente dovrai fare dei sacrifici su altre dimensioni che possono essere la posizione la seniority anche lo stipendio perché magari lo step intermedio il famoso passo laterale o passo indietro è intanto entro intanto devo mettere un piede e per fare questo magari devi essere disponibile a rinunciare a qualcosa in altre dimensioni per cui è fattibile è molto più difficile che passare da una grande azienda all'altra e bisogna prepararla con molta molta attenzione a livello di comunicazione a livello di perché ripeto stando nella piccola azienda non ti rendi conto di quanto sia diverso il dover lavorare in un'azienda in cui l'inflazione in Turchia o le escursioni di cambio ti fanno fluttuare di 30 milioni il budget mese su mese o mese su quarter su quarter sono dinamiche su cui non lavori in altre dimensioni sono cose che devi saper gestire per cui è fattibile sì è in salita si può fare ma non aspettatevi una passeggiata di salute abbiamo Charlie che si muove ok allora vi ricordo che ci sono altri posti disponibili per la masterclass ho messo il link lì che inizierà alla prossima settimana penso che ci vedremo la settimana prossima la mia idea è tenere una Q&A o comunque una live almeno una volta a settimana più sto lavorando su degli altri video degli altri consigli se avete delle domande anche in chat ho messo il link per segnarvi per segnarle così poi vedo quelle più interessanti e me le riporto qua direttamente grazie a tutti buona serata godetevi il ponte per chi fa ponte e ci vediamo alla prossima volta ricordatevi like l'iscrizione al canale e quelle belle cose ciao buona serata